La ricostruzione dell'Aquila e dei comuni del Cateri è al centro dell'incontro che i titolari di USRA, OSRC, Salvo Provenzano e Raffaello Fico hanno avuto con il capo dipartimento di Casitalia di Isagrande. La ricostruzione è privata all'85%, secondo i dati dell'ufficio speciale all'Aquila, al 50% nei comuni del Cateri. Per la pubblica invece ci sono ancora molte criticità da superare. Basta guardare il centro storico, in effetti per rendersi conto di alcuni buchi neri, il Duomo, il Quarto Cantone ed altri palazzi, anche se le cose, secondo il titolare USRA, Salvo Provenzano, stanno cambiando. Resta il nodo delle mancate presentazioni delle SP2 in alcuni casi che rischiano di creare ritardi, ma anche su questo punto, dopo varie sollecitazioni, pare che la situazione stia migliorando. Servirebbe adesso, come già stiamo facendo, abbiamo fatto una riunione in prefettura ieri con il capo dipartimento di Casitalia, per mettere a sistema tutte le conoscenze che ci sono nel territorio per poter procedere in maniera un po' più spedita. Perché, lo ripeto, adesso bisogna concentrarsi sulla ricostruzione pubblica, perché la privata, come dicevamo, è avanzata e non possiamo permetterci che rimangano dei buchi di alcuni aggregati pubblici che non consentono neanche di iniziare con attività di decoro urbano, che sono ormai fondamentali per la città. Siamo, come ormai spesso diciamo, all'ultimo miglio di questa faticosissima salita, per cui sollecitiamo tutti a consegnare le SP2. Già in realtà bisogna dire, perché bisogna denunciare, ma bisogna anche mettere in evidenza poi gli aspetti positivi. Già qualche riscontro l'abbiamo, diverse SP2 e schede parametri che parte seconda, che sono i progetti, stanno rientrando e questa cosa ci consente di mantenere il trend che abbiamo avuto negli scorsi anni, che ci consentirà poi di avere quel tiraggio necessario per farci dare le risorse da Roma. Una criticità da superare è legata anche agli aspetti interpretativi dell'applicazione del Sisma Bonus, anche di questo si è parlato e Lagrande ha già spiegato che sono in corso interlocuzioni con l'Agenzia delle Entrate e a breve ci sarà più chiarezza su alcuni punti ancora poco chiari, legati ad esempio al cumulo di contributi. Già avremo una riunione con l'Agenzia delle Entrate, perché su alcuni punti ci sono stati dei chiarimenti, ce li aspettiamo su alcuni altri, a cominciare dal fatto dell'accumulabilità dei contributi fino ad arrivare alla possibilità di utilizzare il Sisma Bonus in via alternativa. La riunione ci sarà a brevissimo, per cui immagino che al 70 breve usciranno delle linee guida che chiariranno ogni dubbio.